Il Pionta è più vivibile, questo non c'è dubbio, ma le cessioni di droga e soprattutto il consumo sono ancora ben visibili a chi passeggia nel parco. Io tanto che non ci passavo per fare una passeggiata, ma per ora è deserta, non vedo nessuno. Sì, sì, la zona è molto più vivibile rispetto a prima, sì, quello sì. Ad una decina di giorni dalla maxi retata da parte della squadra mobile di Arezzo, che ha portato a 41 arresti in 24, sono poi rimasti in carcere, i cittadini confermano che questo parco è decisamente cambiato, ma al tempo stesso i nostri telespettatori ci segnalano ancora episodi di cessioni di droga. Questo potrebbe essere un episodio, le nostre telecamere lo hanno testimoniato intorno alle 15 del pomeriggio. La battuglia della polizia arriva poco dopo e così quella sensazione di insicurezza svanisce e si rafforza l'idea che finalmente questo parco stia tornando a disposizione di tutti i cittadini.